C'è il tocco di Maniero e c'è il gol di Brienza il gol è di Brienza, Bari improvvisamente in vantaggio con la gran lettura, andiamo a rivedere cross è di Cassavis, Fiora De Luca e Brienza è bravissimo ad anticipare tutti, forse addirittura con la suola della scarpa non è teso, poi c'è il tocco di Maniero e c'è il gol di Brienza il gol è di Brienza, Bari improvvisamente in vantaggio con la gran lettura, andiamo a rivedere cross è di Cassavis, Fiora De Luca e Brienza è bravissimo ad anticipare tutti, forse addirittura con la suola della scarpa andiamo a rivedere decolla, poi svirgolata di Romizzi, non ci arriva Maggiore è fedele incredibilmente, la mette sotto l'incrocio dei pali evidentemente voleva metterla in calcio d'angolo andiamo a rivedere decolla, poi svirgolata di Romizzi, non ci arriva Maggiore è fedele incredibilmente, la mette sotto l'incrocio dei pali evidentemente voleva metterla in calcio d'angolo non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva